Oggi finalmente mi è arrivata la tracolla della Genuine Strap Stavo cercando una tracolla che si adattasse alle mie necessità Ovvero che fosse comoda e con uno stile vintage Infatti, come potete vedere, la tracolla è realizzata a mano ed è tutta in vera pelle Ci si può attaccare fino a tre fotocamere E posso soltanto ringraziare Genuine Strap per avermela inviata